Crescono in Italia gli indicatori di povertà assoluta. Nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie e oltre 5,6 milioni di individui. Questo peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione e alla conseguente impennata dei prezzi. L'Istat ha reso noto che l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più alta nel mezzogiorno, seguita da nord-est e nord-ovest. Il mezzogiorno conta oltre 2 milioni e 500 mila individui in povertà assoluta. L'Istat registra anche 1,27 milioni di persone minori in povertà assoluta e conferma i segnali di disagio per le famiglie numerose. Il caro prezzi si conferma una tragedia economica, ha commentato il Kodakon, mentre secondo l'Unione Nazionale Consumatori sono dati drammatici non degni di un paese civile.